E' appena arrivata l'ufficialità Era già da tempo nell'aria però questa notizia si attendeva solo l'ufficialità Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan Rivoluzione in casa Milan perché cambierà molto probabilmente il modulo Patrick Schick please come to Giampaolo and Milan Fu così che andò là, fece 98 gol, scarpa d'oro, pallone d'oro, pisello d'oro E a noi inculata d'oro Come al solito, tra l'altro Come la Pia Ritter ma dovesse succedere sarebbe uno sfogo di quelli esagerati Ciao, ben ritrovati ragazzi Voglio che mi esprimi un tuo parere su Giampaolo, come lo vedi? Mossa coraggiosa nel Milan secondo me Ok Perché Giampaolo finora non ha mai allenato in un palcoscenico così importante E sono assolutamente d'accordo con te su questo Prima esperienza, prima esperienza importante Diciamo che è una scommessa Una scommessa assolutamente Così come Fonseca ovviamente è una scommessa per la Roma Assolutamente sì Però mi permetto di dire una cosa Giampaolo conosce bene la Serie A E fa giocare bene le sue squadre Quindi Sì C'è anche da dire però che Giampaolo Non ha esperienza tra virgolette in campo europeo Se così possiamo dire Sì Siamo in attesa Siamo in attesa della sentenza definitiva dell'UEFA Si dice che si stia andando verso un accordo tra il Milan e la UEFA praticamente Dove il Milan rinunci alla partecipazione all'Europa League in cambio di una posticipata Insomma per l'UEFA finanziaria come cavolo si chiama Cioè possono provare No possono provare Il bilancio fino al 2021 Anziché un anno prima Esatto E va bene Quindi Mossa comunque secondo me importante Sì Una svolta proprio importante sia a livello In termini di modulo in termini di gioco in termini di tutto Sotto tutti i punti di vista Una mossa che secondo me in una maniera forse più piccola Mi ricorda un po' Sarri alla Juventus Dove comunque si cerca di puntare sul bel gioco No semmai Sarri al Napoli all'epoca Perché ormai Sarri è affermatissimo Sarri è affermatissimo Però la Juventus adesso a confronto nel Milan È una squadra che vale molto di più Assolutamente sì E non penso che sto dicendo una cosa No no Insomma No no stai dicendo la verità Attualmente Attualmente Quindi ho detto apposta in proporzione Comunque Giampaolo mi sembra una mossa Che mi ricorda molto quella di Sarri alla Juventus Per modo di giocare Per modo di giocare Perché comunque è un allenatore che punta molto sul bel gioco Assolutamente sì Di conseguenza ha allenatori simili Che poi hanno avuto pure lo stesso percorso Hanno allenato l'Empoli tutti e due Sampdoria che quest'anno comunque fino a un certo punto C'è una difesa quasi impenetrabile se non mi ricordo male Ma la Sampdoria Sto andando a memoria Ma mi pare che sì Fino a un certo punto Prime 15, 20, 10, 12, 13 giornate Se non mi ricordo male La Sampdoria La Sampdoria ha giocato bene Ha giocato bene Assolutamente Specialmente nella prima parte dell'anno Poi purtroppo Si è andata a perdere Si è un po' persa per strada Come purtroppo succede spesso alle squadre di Giampaolo Una sorta di cosa ciclica che c'hanno Cioè fanno lo sprint iniziale Dipende secondo te dalla preparazione atletica? A centaio, febbraio No magari Non vorrei che dipenda più che altro Dagli obiettivi stagionali che si vuole la squadra Ovvero Avendo allenato sempre squadre di medio-bassa classifica Partiamo a bomba Punti subito e poi Poi vai calando Difesa Ovviamente Cerchi poi di andare in trincea Come si suol dire Però ovviamente col Milan Questo è un ragionamento che non lo puoi fare È chiamato al salto di qualità Quindi Anche per questo li sto dicendo Con una mossa coraggiosa da parte del Milan Perché comunque è un allenatore al quale stai mettendo in mano per la prima volta una squadra di questo livello E soprattutto se pensiamo a Conte-Inter Magari qualche tifoso del Milan Potrebbe Storcere Sulla carta e a bocce ferme storcere la bocca Perché poi ragazzi I risultati Non si vedono con i nomi Si vedono sul campo Quando è ora che il gioco si fa duro E quindi che si comincia a giocare Ovviamente Ed è là che i duri cominciano a giocare Giampaolo mi sembra un duro Te lo ammetto Te lo ammetto perché comunque è un allenatore che Zitto zitto Se trova la quadra del cerchio Secondo me È il classico allenatore che viene seguito a ruota Non mi sembra un allenatore Che magari lo spogliatoio possa dire No ci hai rotto il cazzo Vattene a fanculo Noi non ti seguimo più Ogni riferimento è puramente casuale a situazioni successe ad altre squadre Si Ogni riferimento è puramente casuale Io la vedo in maniera un po' diversa Giampaolo secondo me ha bisogno di tranquillità Nel lavorare E nel applicare quelle che sono le sue idee alla squadra Mi stai dicendo che Ha bisogno di tempo Quindi i tifosi del Milano non possono pretendere Credo così come noi Devono avere pazienza secondo me Un avviso che gli do Perché pretendere risultati da subito sarebbe sbagliatissimo Comunque è molto simile la situazione del Milano Del Milano e della Roma quest'anno Permettimi di dirlo Insomma I risultati sono quelli L'Europa League Eh lo so Io però adesso come adesso vedo molto peggio la Roma Sarà che la vivo in prima persona da tifoso E tutto quello che è successo assolutamente Io ti parlavo in termini dei risultati In termini di quello che abbiamo ottenuto Se vi parli di risultati sul campo Loro ci sono arrivati davanti Quindi comunque hanno fatto meglio Che poi rinuncino all'Europa League Per altri discorsi Non c'entra nulla Se parliamo dei risultati alla fine Ragazzi hanno avuto stagioni simili Ma il Milano arrivano davanti Certo Poco poco meglio Ci fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti? Suso Cialanoglu Tanti altri interpreti Dobbiamo vedere Piontek Cutrone Ci stanno tanti giocatori Dobbiamo un attimo adesso vedere Ma soprattutto il nuovo acquisto Krunic Che se dice sia stato proprio richiesto da lui Sì probabilmente Può essere stato richiesto da Giampaolo Visto che comunque si è parlanggiato un bel po' Sì Il primo acquisto è stato fatto Probabilmente c'è stato almeno L'ok dell'allenatore Credo di sì Dobbiamo vedere un attimo adesso I giocatori Perché il modulo cambia Negli ultimi anni è stato sempre utilizzato più o meno il 4-3-3 Sì Quindi tanti esterni 4-3-1-2 Diciamo c'è un trequartista E il gioco con gli esterni Diciamo che è leggermente Adesso chi te lo fa il trequartista? Te lo fa Suso? Non lo so Chi te lo fa? Cialanoglu? Chissà che non ci sarà qualche colpo Chi lo sa? Qualche uscita E ovviamente qualche nuova entrata Per adattare tutta la nuova situazione Il centrocampo a tre non viene toccato Perché ovviamente rimane quello Bisogna vedere Centrocampo a tre Però gli interpreti Gli interpreti potersi cambieranno Però il modulo è sempre quello 4-3 rimane identico Fateci sapere voi Che cosa ne pensate nei commenti Come lo ritenete Gianpaolo? O meglio Possiamo mettere un sondaggino alto a destra Cliccate Dai un voto a questo acquisto Da 1 a 5 Sia se tifate Milan Sia se non tifate Milan Sicuramente chi tifa Milan Magari è un po' più cattivo nel voto Esatto Come è normale che sia Il tifoso è ovvio che Deve essere sicuramente più critico Nei confronti della propria squadra del cuore Vediamo anche quello che dicono Chi il Milan non lo tifa Gli interisti mettono 1 1-1-1 I milanisti 5-5-5-5 Hanno passato la media 5-5-5-5 Siamo al contrario Gli interisti che mettono 5-5-5 Perché fa schifo per loro Magari Sarà al contrario No vabbè per non far comparire un risultato De quelli Ah pure Adesso Se no secondo me Se gli interisti Forse saranno contenti Della scelta del Gianpaolo E fu così Se proprio Ritengono L'Inter e Conte Vince il campionato E Conte arrivò Settimo Magico Che patosta Mamma mia Che la Roma retrocessa Che brutta cosa che hai detto Mamma mia Gratto le palle Mamma mia ragazzi Ci vediamo Stasera c'è stata la nazionale italiana Di conseguenza Non lo sapevi Oddio C'è stata l'Under 21 Se non torni In tempo Per fare la live reaction E per fare il post partita Io stanotte Te lo appizzo E te l'ho detto Caccola questa La vedi È la maglia dei palestri Io me ne so Non in palestra Quando torni Ti sbrighi Mangi E ci vediamo la partita Facciamo il post partita Domani pubblico la live reaction E non rompere i coglioni Fateci sapere il vostro perere nei commenti E buona serata Ciao 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 Grazie a tutti.